L'elefante è un mammifero molto speciale non solamente per le dimensioni ma perché ha un istinto di protezione verso i figli del branco, non suoi, quindi verso tutti i figli del branco, al di là dei legami di sangue. Per cui mi interessavano quelle relazioni che si basano su questo principio, proteggere, difendere ma anche curare, al di là che non siano figli nostri o che siano in stretta relazione con la nostra famiglia. C'è l'amore, c'è il matrimonio, c'è il tradimento ma c'è anche una sorta di istinto paterno, materno, non convenzionale, non esplicato, non completo, che è sempre in rincorsa, che è un po' lo specchio dei nostri tempi dove l'affettività è un po' singhiozzante. Ci sono un po' di provocazioni in questo senso dell'elefante? Sì, è un libro molto crudele ed è un libro che vuole far interrogare chi legge, lo vuole smuovere, lo vuole portare da un'altra parte per cercare di fargli capire se è d'accordo con quello che dico o no, per cui è una sfida. Già da alcuni anni tu lavori e scrivi a Milano una lontananza che ti ha permesso di scrivere di Rimini? Sì, scrivo di Rimini, Rimini è la protagonista di questo libro in un certo senso, anche il dialetto in parte perché in parte c'è anche del dialetto riminese, pochi tocchi ma molto significativi e sì, vivere a Milano ti dà la vicinanza di Rimini per cui non vedi l'ora di tornare e non vedi l'ora di scrivere anche di Rimini ed è questo il caso. Parli molto di legami, sei un trentenne o poco più, qualcuno potrebbe dire ma in fondo a trent'anni cosa si può sapere dei legami, cosa è forti, cosa rispogli e chi ti provoca così? Io ho trent'anni ma credo di avere 96 veramente, per cui da questo stato veramente di vecchiaia interiore, a parte gli scherzi, credo che il trentenne abbia assorbito la precarietà dei legami, affettiva, ce l'abbia già, l'abbia già sentita e abbia capito che i tempi sono cambiati rispetto ai nostri genitori. La prima cosa che ho fatto è stato metterli in un romanzo.